Salve, domattina si parte per un lungo viaggio Valigie Abbiamo anche la roba da mettere in valigia Ah, intanto l'obiettivo sarebbe fare dei re-vlogging Però non so se già da oggi Partenza che la metto nel vlog del primo giorno Non lo so, dipende da cosa ne esce Buongiorno, qui abbiamo la valigia Ho aperto un nuovo AirTag E ce lo ficco dentro malamente Buongiorno Voglio andare di qua Tra l'altro, ho visto che per la monetizzazione Per fare un po' di iscritti è comodo anche a fare gli shorts Ora inizio anche a fare gli shorts Invece mancava solo quella Anche lui è pronto No, cazzo, è aperto È pronto No, cazzo Ok In Pisa Pisa merda Tanto c'è anche un bel venticello Cioè, fresco L'aeroporto di Pisa Volevi davvero non passare in libreria? Ovviamente Fatto anche i controlli A presto A presto Augi A presto A presto A presto Io non so se qui facciamo l'applauso del conducente In due ore ho capito soprattutto una cosa, anzi due Che i bambini sono una delle cose che odio di più al mondo E' una conferma E' una seconda che la gente non si lava Ma è che la gente con i bambini è molto maleducata Scala infinite We are officially in UK Ok sti cosi sono mega brutti Beh tipo ti sembra che non si muova, invece si muove Però tu continui a camminare E quando smette di muoversi E scendi Si sembra di camminare un botto più lento Di se sei tipo il doppio più pesante Atroce Masus C'è un'aria molto english Tra l'altro l'altra cosa non molto buona Tipo il 30% di batteria Non molto buono Tra l'altro stiamo facendo tipo anche questo tutto con il caro vecchio Flowey Underground Wow Molto molto wow Ci mette molti in mood Serie tv Film Chill Cioè Non a livello New York Quella e tutta la tua roba Però Approvo C'è tipo molto alla Bridgerton Bridgerton nel 2023 Ecco una Tesla qua davanti Che stavo ci torna di qua Andiamo in lì a questo ristorante C'è Piccolo ma caratteristico Anche bello Costoso Piccolo Ma caratteristico C'è proprio un bel mood C'è un odore di sienape assurdo Comunque se vado a Jimmy's Burger Posto più caratteristico della zona No Non Però c'è Caratteristico Sì Bamburgeria Londinese Da Jimmy's Comunque se quegli inglesi che reactano alla partita Sono tipo la mia vita C'è mi sto scherzando da ridere Per esempio questa è una droga Un panino piccolino ma la carne è tipo speciale No sì davvero adoro questi passeggi Perché questa è acqua Sì è acqua Va vuota No ma si scarica la mochette Oltre che io odio la mochette Sembra di passeggia sull'anno E' acqua E' acqua E' acqua E' acqua E' acqua E' acqua E' acqua